Attraverso la conoscenza. La cultura a che serve? Commento. È uno strumento della condizione umana per arrivare alla verità, attraverso la conoscenza, la mente. La cultura non è essenziale per acquisire la comprensione delle vite che è solo spirituale e per allargare il sentire che è sempre un atto mistico.